Certamente per portare Putin al tavolo delle trattative non bisogna fare le dichiarazioni che si indomigna da tutte le parti, dalla Gran Bretagna, dalla Nato eccetera. Ma l'invio di armi in Ucraina deve pensare, Presidente? Io dico che inviare armi significa essere cobelligionati, essere anche noi in guerra. Cerchiamo di far finire in fretta questa guerra e se dovessimo inviare armi sarebbe meglio non farne tanta pubblicità. Grazie.